ma non può come si fa? come si fa? come si fa? perchè naturalmente quelle scarpe non può vestire sono quelle e la teglia non è giusto ma che dico non c'è la parte e che cazzo le scarpe sono ma che cosa? ma tu cosa? ma tu cosa? bencemo 6 9 10 10 10 10 11 12 13 15 16 16 Grazie a tutti. 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 Non lo so fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 Sono felici. guarda. . Sì, va! 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. No. No. Grazie a tutti. 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 a tutti. Andiamo. Andiamo. a tutti. 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 oddio ma è da netto cioè è troppo piccolino vediamo che metto la maschera che li vedo così guarda che bello eccolo quello piccolino guarda 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 guard Grazie a tutti. 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 Screenshotti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ho visto una faccia. Ho visto una faccia. Guarda. Sì, però non si può fare così. Io volevo superarlo sto gioco. Un'altra faccia. Vediamo se posso sbloccare qualche cosa. E' un'altra faccia. cosa è un'altra faccia. Ciao, c'è un'altra faccia. Ciao, c'è un'altra faccia. c'è un'altra faccia. E' un'altra faccia. Io prima non lo sapevo che mi poteva poter trasportare. guarda. con le spiace. Con le spiace. Con le spiace ti danno le cose. Con le spiace ti danno le cose ti ottieni. Come hai fatto? Mi hai fatto gli squadri? Mi hai fatto gli squadri? Come cazzo hai fatto? Non. 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 Use Tarot's mask to open the spirit barrier. Benny and Saiyan. L'HOICA èotesca. Dunque non ca! Chi ha ansia può entrare questo sbaglio di tembio? Sembra va da 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 da. c'è uno con la maschera guarda sto togliandando ma poi non ballano sti cosi non lo so ti lancio una freccia vecchia santa madre di dio quella che ha visto incertizia santa madre di dio questo maschera io non ce l'ho ma come cazzo io non guardavo avanti con sto gioco vedo se c'è un balde di dio che ti entra da volta niente sta minchia eh c'è ah che cosa c'è ti aspetto a santuario della qui acqua eh acqua nella foresta dimenticata ogni spacchiera della foresta dimenticata c'è un buttuso qua vedi foresta dimenticata ma dov'è adesso io vado lì qua ora sei lontano per la foresta ora se vuoi vedi va bene troppi testicoli ci sono qua ci sono gente che non ho andato si ma qua sinistro allontanando dov'è forse sono subito da lei abba non è un lavabo è migliore abba a pop away fermo mi fermo no no sai cosa sto pensando stavo pensando a te eh 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 i allora foresta dimenticata guarda dritta sì e quattro non 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie.